bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente grazie anche all'aiuto di tutti i ragazzi che mi seguono in live e che giocano insieme a me abbiamo completato le sfide della terza settimana ragazzi come vedete oltre ai 5.000 punti esperienza ottenuti e aver ottenuto anche il nuovo è la nuova schermata di caricamento che è esattamente non me lo ricordo datemi un secondo che è esattamente 1 3 questa qui eccola che lo insiede adesso la vedremo c'è ragazzi ovviamente la stella segreta da andare a prendere 10 stelline quindi vuol dire un livello del pass battaglia extra regalato da epic games per noi che abbiamo completato la sfida della settimana 3 vi ricordo che è anche importantissimo completare le sfide per ottenere poi tutti i pezzi eccola qua ragazzi eccola qua gigi che bella che è questa schermata meravigliosa ragazzi allora intanto io vi faccio vedere dove rimane me l'hanno detto me l'ha detto x di simo ecco così lo sponsorizzo è contento la stellina ragazzi si trova sopra questa montagna tra il tra le fabbriche che ci sono e lande letali quindi direi ragazzi di non indugiare ulteriormente e di andare a vedere questa stellina di prenderla vi ricordo intanto ragazzi di mettere un bel like se vi sta piacendo questo video ma soprattutto di iscrivervi al canale per avere la possibilità di essere uno dei fortunati partecipanti e vincitori dei buoni che quasi ogni giorno regaliamo al raggiungimento di un certo numero di iscritti quindi vi invito anche ragazzi a condividere questo video con tutti i vostri amici su tutti i vostri social va bene ragazzi ci siamo andiamo andiamo e andiamo siamo veramente molto vicini stiamo buttandoci di più potenza con il paracadute ecco che vedo già la montagna dovrebbe essere proprio quella lì davanti a me ragazzi vai che andiamo vai che andiamo senza problemi ho messo il deltaplano casuale perché secondo me ci sta un sacco peccato che sono un po basso sono costretto a scendere qua e a prendere un po di legna per salire di un piano chiamiamolo così e quindi poter fare recuperare la stellina vediamo un po di legna da qua vediamo se ci basta per salire uno lo facciamo qua uno lo facciamo qua uno lo facciamo qua e questo non ci basta porca miseria per un pelo aspetta un attimo ma perché ma perché ogni volta adesso ma no ma no ma no aspetta ma dai uno cerca di fare le cose fatte bene porca miseria la natura contro ragazzi la natura contro allora andiamo di qua spacchiamo anche l'albero di qua bisogna usare meno legna possibile che per favore salga di qua e salga di qua ok nice direi che possiamo tornare su nuovamente ce la facciamo pietro tornare su nuovamente ok nice ok l'ultimo pezzettino che mancava vediamo dove la stella ragazzi vediamo dove non lo so neanche io attenzione sarà qui però guarda l'acqua guarda l'acqua e vai e vai ce la andiamo a prendere ci andiamo ad ammazzare e direi che ci siamo non mi sono ammazzato ma porca miseria volevo ammazzarmi per andare a fare l'ultimo livello del pass battaglia ragazzi e lasciopare insieme a voi la skin completa ammazzati non riesco ad ammazzarmi non si ammazza ma perché non si ammazza ma porca miseria ma porca miseria ma che tristezza vabbè ragazzi quella era la stellina segreta che vi serviva io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video un bel like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live ciao grazie a tutti